ciao amici di youtube ragazzi questo video che mi hanno mandato sembra molto molto interessante adesso vediamo adesso dalle immagini non capirete niente come mi è capitato a me perché sono talmente piccoli gli oggetti che non si riesce a farci caso però adesso andando un po più avanti ho migliorato l'immagine zoomando ecco qua adesso è finito il video ecco qua vedete questo puntino nero adesso va verso l'alto guardate non so se ci fate caso ce n'è un altro che gli corre dietro che fa un movimento molto molto strano cioè intelligente diciamo così se era un insetto qualcosa eccolo qua guardate adesso a rallenti adesso si ferma si ferma eccolo si è fermato e poi su verso l'alto guardate ce n'è un altro che gli viene subito dopo però ragazzi guardando bene il video adesso io l'ho l'ho mandato più a rallenti e io ve lo ho cerchiato ve lo ho cerchiato per farvi vedere meglio i due oggetti che passano in questo video il ragazzo stava filmando un aereo da come si vede dalle immagini e lì in alto c'è un aereo che vola il ragazzo vabbè non ci ha fatto nemmeno caso poi dopo guardando il video riguardando il video mi ha detto l'ufo global guardaci un po te eccolo qua adesso ve l'ho cerchiato vedete eccolo qua si ferma adesso incredibile adesso si ferma e va verso l'alto ce n'è un altro che compare sotto guardate ve l'ho cerchiato guardate le traiettori che fanno si fermano vanno indietro non credo che se che un insetto fa questo movimento si ferma si ferma lì in quel in quel punto e poi dopo diciamo si spostano degli insetti se fosse un insetto un uccello qualsiasi cosa volatile non fa questo passa e via non adesso li vediamo ancora con molto più zoom questo qua va beh vi ho fatto un una istantanea vi ho fatto una foto per farvi vedere meglio gli oggetti diciamo eccolo qua bocchi in alto dovevo cerchiarlo proprio si viene sotto all'aereo in alto a sinistra rivediamo ancora il video ragazzi ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo video diamogli a questo ragazzo diciamo io per me sono oggetti volanti non identificati sono ufo per me poi ditemi la vostra ok ciao qui